ok andiamo il sole va bene il sole va bene il sole va bene aspetta un attimo se non mi ricordo dove dobbiamo andare qua questa la vendono eh mi interessa cosa? la vendono questa molto bella anche questa a posto carina anche un bel posto fuori dalle palle non mi interessa 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 alle persone che non mi interessa non mi interessa Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 puoi puoi andare. a tutti. 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 a tutti.